Una buona serata, buona domenica. Ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone e la domenica calcistica di TV6, in una domenica che ha visto il Teramo in Serie C eliminato dai play-off, sconfitta per 2-0 contro il Palermo, ma è un pomeriggio contrassegnato soprattutto dal post-gara dell'Aragona di Vasto con il tecnico del notaresco Massimo Epifani, che è stato colpito, è rimasto a terra, è stato trasportato in ospedale. Io vado rapidamente a salutare Andrea Costantini in redazione. Ciao Andrea, che ci ha raccontato questo pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. La nostra Ania Cantagalli, ciao Ania, in collegamento, perché poi con te parleremo di Teramo. Ciao, buonasera a voi. Ma vado subito a salutare al telefono, doveva essere con noi in collegamento questa sera, ma poi i fatti del pomeriggio non gli hanno consentito di essere in collegamento con noi. Paolo D'Ercole, direttore sportivo del notaresco. Buonasera, direttore. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, dicevamo, era una serata in cui avremmo dovuto, in collegamento con te, parlare della gara che il notaresco ha perso per 2-0, ma purtroppo sei ancora a Vasto e innanzitutto ti chiedo come sta il mister Massimo Epifani. Il mister adesso, vabbè, il mister è cosciente, adesso, aspettando l'attac, gli hanno fatto un antidolorifico perché comunque aveva diversi giramenti di testa e speriamo che tutto sia andato tra virgolette bene. Hai avuto modo di vederlo, di scambiarci due parole, come ti è sembrato? Eh, sicuramente spaventato, agitato, incredulo come tutti quanti noi, per quello che è successo, perché è qualcosa che non vorremmo vedere nessuno sui campi di calcio, ma nello sport in generale, ma come nella vita, quindi però purtroppo è successo a noi, sarà parte del bagaglio culturale che mi porterò dietro anche questo. Senti direttore, io, mentre vediamo le immagini da cui però si evince poco perché, come vedete, è proprio al termine della partita e il nostro Loris Bennato, come vedete, le squadre sono uscite dal campo e quindi di fatto è in una, non sta seguendo le due squadre che rientrano negli spogliatoi perché televisivamente, ovviamente poi quella è una parte che 999 volte su 1000 non serve a nulla e poi quando ristringerà, perché evidentemente si rende conto che sta succedendo qualcosa, si vede già un parapiglia, ti chiedo, te eri nelle immediate vicinanze immagino, quindi dalla parte opposta rispetto alla tribuna o eri in tribuna anche te? Guarda Jacopo, io stavo facendo il giro dello stadio per andare a salutare la squadra negli spogliatoi, poi ho visto il mister a terra e sinceramente all'inizio non ci ho capito nulla perché si è creato un parapiglia tra i giocatori ma che poi sono stati tranquillissimi tutti perché hanno cercato di sedare a differenza di altre persone che invece continuavano anziché placare la situazione e occuparsi di una persona a terra innocentemente perché poi è stato preso alle spalle e si è pensato soltanto a fare i cosiddetti sboroni, noi la partita sinceramente ci interessa poco perché poi la partita l'abbiamo persa, meritatamente o immeritatamente, il risultato detto quello non ci cambia nulla, però sinceramente della partita in questo momento proprio nessuno interessa proprio di parlare perché non mi interessa proprio, è una cosa che va oltre, noi siamo andati veramente troppo oltre la logica Assolutamente sì, la parte conclusiva, questo è il file che ritorna da zero, poi ovviamente questo è chiaro se qualcuno della vasta e se volesse intervenire per commentare, per dare la versione dei fatti può ovviamente farlo Diciamo, la parte finale del file l'abbiamo tolta, non perché si veda qualcosa in realtà, cioè si vede purtroppo Massimo Epifani a terra e pensiamo, almeno questa è la nostra considerazione, che una persona che in questo caso è anche un allenatore e anche posso dire, insomma un amico della nostra relazione a terra, privo di sensi, non fosse una cosa giusta da mandare in onda peraltro gli facciamo davvero tanti complimenti Direttore, io insomma ti ringrazio dell'intervento, di averci sostanzialmente detto che il mister, tutto sommato, al di là dello spavento è in discrete condizioni, questo ce lo puoi confermare, vero? Eh questo sì, se non danno altri risponsi all'attacca però penso che sia bene, lui è forte, quindi c'ha la testa dura quindi penso che si supererà anche questo, non è un problema però spero non lasci i straccichi tutti esseri perché comunque queste cose ti un po' spaventano perché se non siamo tranquilli neanche tra società, tra virgolette a questo punto metto amiche della stessa regione, stiamo parlando di una partita di calcio che tra l'altro abbiamo anche perso quindi oltre ad aver perso in campo essere picchiati successivamente un po' troppo, come si dice, conuto e mazziato come si può dire dalle parti nostre questo non non mi sta bene, non lo accetto e spero che qualcosa si possa fare per per punire queste situazioni che non succedano più C'è una domanda direttore per te da Andrea Saluto il direttore Paolo Tercole ti chiedo direttore se state valutando la possibilità di sporgere denuncia non so poi a carico di chi in un momento in cui saranno un po' più chiari i fatti e poi volevo chiedere se quello che è accaduto vi porterà a chiedere il rinvio della partita di mercoledì col Montegiorgio ora noi speriamo che il mister possa ripendersi il più presto possibile però visto che tornerete in campo subito, in teoria, a mercoledì se state facendo anche una valutazione a tal proposito Guarda, sinceramente sulla seconda domanda noi stiamo ci stiamo muovendo per cercare di capire cosa si deve fare in questo momento il nostro obiettivo principale è sperare che il mister sia bene e risolvere questa cosa a più breve tempo possibile per quanto riguarda la prima ovviamente noi faremo tutto il possibile perché le persone coinvolte vengano punite perché non è giusto che nel calcio ci girino certe persone questo è quello che penso io ma penso che non c'è nulla da eccedere a quello che dico però ognuno può anche fare le proprie valutazioni Dittore io ti ringrazio e ovviamente vi auguro un buon ritorno a casa e ovviamente speriamo che queste cose non si ripetano più grazie a Paolo D'Ercole grazie a voi buon trato e buon lavoro grazie grazie al direttore sportivo di Notalesco lo ripeto ovviamente qualora qualora la vastese volesse intervenire per dare la propria versione di fatti assolutamente siamo a completa disposizione fatto salvo che queste sono cose che adesso nel 2021 veramente non si possono vedere qualsiasi siano le motivazioni niente giustifica una cosa del genere speriamo di non vederlo più non vederle più poi peraltro tra due società abruzzesi se vogliamo anche anche peggio va bene spesso si dice tra abruzzesi bisogna darsi una mano invece vabbè ok parliamo di serie C Ania vengo vengo da te perché è terminata ufficialmente di fatto la stagione del Teramo con il 2 a 0 di oggi contro il Palermo l'abbiamo commentata oggi a freddo ti chiedo in 30 secondi perché poi vedremo il tuo servizio della partita come pensi che verrà assimilata nei prossimi giorni come pensi che saranno i prossimi step di questa stagione nel Teramo beh fatto salvo insomma quell'ultimo allenamento che ci sarà prima del rompe delle righe ma che è una sorta di appuntamento un po' classico quando finisce la stagione è chiaro che credo che il Teramo poi con il lavoro che si è chiuso sul campo dovrà subito iniziare a lavorare fuori dal campo per iniziare a programmare la prossima stagione perché poi il tempo passa in fretta le cose da chiarire sono tante il direttore sportivo in primis allenatori anche subito dopo perché sono entrambi a scadenza ci sono diversi giocatori con il contratto in scadenza quindi ci sono diversi punti interrogativi da chiarire per cercare di programmare il prima possibile che poi vuol dire anche il meglio possibile la prossima stagione e iniziare per tempo ripeto secondo me è assolutamente un primo passo giusto per iniziare insomma a pensare al prossimo campionato fermo restando che bisognerà chiarire che tipo di campionato sarà se ci sarà una riforma dei gironi se ci sarà una sorta di campionato propedeutico quella che sarà la riforma poi di cui si parla dal 2022 dal 2023 quindi c'è da capire questo ma in primis in casa Teramo bisogna bisogna realizzare qual è il progetto tecnico da portare avanti vediamo il tuo servizio Palermo Teramo 2 a 0 la firma Ediana Cantagalli Palermo come Catanzaro un anno fa con la differenza però che la formazione rosa nero nonostante il vantaggio dei due risultati su tre per passare il turno segna e manda fuori il termo al primo turno dei playoff Albarbera finisce 2 a 0 per la formazione di casa con reti tutte nel primo tempo Paci conferma la formazione che ha battuto la Viterbese nell'ultima giornata della stagione regolare salvo il rientro in campo di Errigoni al posto di Lombardi in mediana e con gli ex Santoro e Birligea subito in campo in casa Rosanero Filippi tiene in panchina il bomber look recuperato dopo un infortunio ed ha ancora fiducia a Rauti in avanti assistito da Canutè e Floriano il termo non sembra iniziare con l'approccio giusto mentre il Palermo a tendere ma dopo pochi minuti di gara arriva già un episodio importante Canutè va al cross dalla destra Valente carica il tiro al volo che secondo il direttore di gara viene deviato con un braccio da Lassic dal dischetto va a calciare Floriano che indirizza centralmente la traiettoria e spiazza Lewandowski portando avanti il Palermo dopo qualche istante Rauti è costretto a lasciare il campo dopo un contatto in precedenza con Santoro al suo posto fa il suo ingresso Saraniti la gara prende così una brutta piega per il Teramo costretto di conseguenza a fare ancora di più per vincere la gara però si fa ancora più complessa per il Teramo prima di rientrare negli spogliatoi Saraniti da di fatto invia l'azione e propizia lo splendido gesto tecnico di Luperini che in rovesciata in aria porta sul 2 a 0 al 44esimo i padroni di casa per il diavolo è ovviamente un brutto colpo l'inizio ripresa non offre cambi né dall'una né dall'altra parte il Teramo deve ovviamente provare a segnare e ci prova al quarto bombaggi dalla distanza trovando pronto Pelagotti con Ilari non troppo contento dell'iniziativa personale da parte del compagno di squadra poco dopo Pace è costretta al cambio perché Birlige è incappa in un nuovo problema muscolare con Chierma Teng che ne prende il posto all'ottavo minuto di gioco Costaferra era tre minuti più tardi impegna Pelagotti con una conclusione su cui l'estremo difensore di casa si fa trovare ancora una volta reattivo non avendo nulla da perdere però il Teramo prova ad attaccare con costanza e protesta al 26esimo per un contatto in area tra Chierma Teng e Lancini su cui il direttore di gara lascia proseguire Paci chiama in campo K al posto di Ilari ed è proprio l'ex Roma a scaricare per Santoro che fa partire un destro al 31esimo su cui di nuovo Pelagotti dice di no un minuto più tardi Lancini e Pelagotti pasticciano su un pallone che sembrava comodo da controllare bombaggi da posizione di filata prova a riaprire la gara con palla che danza sulla linea ma non la oltrepassa i minuti passano ed il Teramo non riesce a pungere al 43esimo Valente ispira Sant'Anna in aria che di testa però non trova lo specchio della porta la conclusione di Costa Ferreira con nuova parata del portiere di casa è la chance che manda i titoli di coda sulla gara del Teramo e sul suo campionato come nella passata stagione il diavolo lascia il playoff al primo turno e si prepara ora ad affrontare la programmazione per la prossima stagione con tanti punti interrogativi da chiarire o è uno Ania e se rimane o meno Massimo Paci per esempio oggi peraltro gli abbiamo chiesto in conferenza stampa se insomma è in programma qualcosa o un aggiornamento per per il rinnovo del suo contratto che te ne pare della sua risposta che tra un po' magari ascolteremo Secondo me si è esposto in maniera importante oggi il tecnico del Teramo perché di fatto ha chiamato ad una conferma del progetto tecnico per quelle che sono state le parole un non ripartire da zero un non insomma fare un po' come ha fatto il Teramo un paio di anni fa nell'avvio della gestione sotto la presidenza di Franco Iachini ma dare continuità a questo gruppo cercare di confermare insomma poi il più possibile quello che è confermabile ma portare avanti questo progetto tecnico che in questa stagione sia un po' più concretizzato rispetto allo scorso anno per quanto riguarda insomma soprattutto certi elementi giovani quindi secondo me sono state parole importanti poi se verranno raccolte o meno ovviamente lo vedremo col tempo però è stata è stata un mostrarsi una dimostrazione importante di volontà ecco del tecnico perché ovviamente se poi chiede la conferma del progetto tecnico di certi giocatori implicitamente secondo me credo che chieda tra virgolette anche una riconferma per se stesso e per il direttore sportivo Sandro Sederigo Andrea ci scrivono ma che cosa si pretendeva da questa squadra e poi ci aggiungo anche il messaggio seguente senza attaccanti che cosa si poteva fare la risposta secondo me è il messaggio che sta in mezzo ai due che ti ho appena detto cioè il Foggia ha vinto a Catania cioè non per forza chi arriva prima e ha due risultati su tre deve qualificarsi sì ma la valutazione è comunque complessiva oggi abbiamo commentato questa partita e abbiamo detto che insomma era quasi una logica conclusione di quello che si è visto nel corso della stagione e come il Teramo era arrivato a questo a questo match quindi dire che poi c'erano dei problemi in attacco ma i problemi in attacco sono stati anche generati dalle scelte di mercato fatte dalla società a inizio della stagione e poi durante la stagione e non sto a rivangare perché l'abbiamo fatto tante volte quello che è successo a metà stagione quando questa squadra era riduce da quella striscia importante di inizio campionato e poi si è persa magari sempre prestazione sicuramente si è persa sotto il risultato che ha avuto una flessione notevole perché parliamoci chiaro quando una squadra arriva al secondo posto in questa in questa in questo campionato e dopo queste giornate puoi pensare che la posizione posizione da andrea io non ti non ti sento non ti sento più perché forse c'è qualche problema al microfono prova adesso prova mi sentite eccoci stavo dicendo no niente non ti sentiamo facciamo una cosa ascoltiamo pace e poi torniamo da te parto facendo i complimenti al Palermo perché ha passato il turno e quindi ha meritato qualcosa in più di noi in questa partita poi possiamo discutere sul gioco o meno però loro alla fine hanno vinto e quindi i complimenti vanno al Palermo per quanto riguarda la partita loro avevano il pareggio e la vittoria quindi per come è stata impostata la partita noi ci siamo un po' aperti perché comunque il pareggio a noi non bastava e quindi il fatto di aver iniziato con un baricentro molto alto aperto degli spazi che poi che poi nella prima occasione da gol il Palermo ha trovato questo rigore generoso no adesso non lo so non l'ho rivisto mi dicono che è generoso però ormai andate in questo non possiamo far niente però è proprio un discorso che noi dovevamo vincere per forza non credo che sia un discorso di essere stati contratti forse sì la pressione della partita ma poi dopo 5 minuti è andata via è stato proprio un discorso di spazi aperti perché noi dovevamo vincere per forza quindi la partita è stata impostata in questa maniera però sono d'accordo quando dici che usciamo a testa alta perché abbiamo fatto un'ottima partita secondo me meritavamo qualcosa in più non è stato così lo prendiamo e che torniamo a casa ma il fatto che loro abbiano trovato un gol subito ha cambiato la partita perché a quel punto loro si sono difesi si sono chiusi davanti dentro il proprio centrocampo e noi tendenzialmente facciamo fatica ad incontrare le squadre chiuse abbiamo bisogno di spazio per le nostre caratteristiche e quel gol quel rigore ha cambiato la partita perché poi loro si sono messi tutti lì dietro e era difficile pensare ad andare a far gol non devo essere in esso non ho visto il solito Teramo delle ultime 5 partite ho visto i primi 15 minuti un po' è vero che ci siamo alzati un po' ho visto un po' un po' meno entusiasmo rispetto alle ultime partite però questo credo che ci possa stare perché per noi è una partita importante poi venire qua in questo stadio non è semplicissimo però è una cosa che ci può stare non è una cosa così strana comunque ragazzi rimane il grande lavoro fatto da ragazzi in questo campionato io dico la mia opinione questa è una squadra che ha dei valori e sarebbe un peccato non confermare certi giocatori perché ripartire da zero l'anno prossimo secondo me sarebbe l'errore più grande che si può fare perché questa è una squadra che ha una buona statura che ha un buon gioccoloduro formato da uomini e a questa squadra basta lavorare bene e aggiungere qualche elemento importante che è una squadra che può competere questa è la mia idea ha anche grande ha anche grande ha anche grande valore umano nello staff tecnico in tutte le persone che mi hanno dato una mano quest'anno ci sono persone di grandissimo valore magazzinieri ha detto stampa team manager fisioterapisti insomma è un progetto che secondo me va mantenuto e va rinforzato perché sarebbe un peccato per quello che abbiamo costruito quest'anno sciupare tutto perché è questo il primo passo la società sa quello che penso ma tutti lo sanno anche perché sono onesto in quello che dico credo in questi giocatori e credo che questa squadra a questa squadra basti poco per migliorarla radicalmente perché quest'anno nell'esperienza che abbiamo avuto abbiamo visto che abbiamo sofferto in determinate situazioni anche per quanto riguarda la rosa tutta la rosa che abbiamo sofferto e quindi le idee ci sarebbero la mia considerazione ma la società lo sa che io credo tantissimo in questi ragazzi Andrea in relazione a quello che stavi dicendo prima io ci aggiungo quello che ha detto Massimo Paci questa è una squadra che poi in realtà non va smantellata basta solo implementare qualcosa il che vuol dire che già un po' interpreto diciamo che già immagina un progetto anche 2021-2022 e quindi ti faccio riprendere il discorso da dove l'avevi terminato perché dicevo quando si è al secondo posto si può immaginare anche una flessione e perdere qualche posizione ma qui dal secondo posto si è andato a finire all'ottavo e c'è la sensazione che se si fosse fatto in un mercato un po' più oculato soprattutto per le punte se si fossero gestite determinate dinamiche un po' meglio questa squadra poteva arrivare più in alto poteva prendere una posizione che ad esempio la mandava avanti automaticamente ai playoff avendo già il passaggio al secondo turno si poteva fare la squadra si era spessa a certi livelli poi quei livelli non li ha più raggiunti quindi qualche limite dell'organico ci può stare e si poteva intervenire e poi determinate altre dinamiche sul fatto di non smantellare siamo d'accordo una squadra cresce con il cosiddetto progetto tecnico ora si è partiti a Teramo la scorsa estate o meglio due stati fa con il botto poi si è dovuto in parte ridimensionare ma c'è un gruppo di giocatori importante se si riuscissero a tenere questi calciatori importanti e si implementasse la rosa la squadra potrebbe ulteriormente crescere il problema è che c'è la sensazione che questo non avverrà proprio perché non si è lavorato in maniera adeguata sui rinnovi perché i giocatori che sono a scadenza non hanno dato neanche la sensazione di essere stati ricontattati magari ecco ci siederemo a tavolino non guardate troppo ad altre offerte cercate insomma di restare canalizzati sul Teramo perché qui ci sarà il vostro futuro se si sentono le dichiarazioni dei giocatori non c'è questa sensazione quindi se dovessero andare via diversi calciatori che sono a scadenza questa squadra andrebbe non dico rifondata ma in buona parte ristrutturata quindi se non si dovrà ripartire da zero si dovrà comunque ripartire facendo dei passi indietro rispetto al livello che si è raggiunti in questo momento poi si poteva fare meglio probabilmente sì però si può crescere partendo da questa base ma ripeto la sensazione è che per vari motivi questa base non sarà la stessa in vista del prossimo anno assolutamente intanto prima avete visto un messaggio del presidente Bolami che però ho avuto modo di contattare via sms interverrà appena terminiamo la pagina dedicata a Palermo Teramo ovviamente la prima partita che vi mostreremo è Vastese Notaresco e insomma ecco perché già detto bisogna sentire le due campane sì noi cerchiamo di farle sentire tutte e due e quindi dopo la parte dedicata alla serie C in servizio di Vastese Notaresco con noi al telefono ci sarà il presidente della Vastese Franco Bolami tornando per un attimo al discorso di Andrea ci hanno scritto invece qualcuno un tifoso che invece l'ha visto come una conferenza stampa di commiato io devo dire la verità a me invece non è sembrata proprio così nel senso che è sembrato più quasi voler dire voler tracciare le linee programmatiche della scorsa stagione direttamente in conferenza stampa con un buon margine di anticipo cioè cara società sappiate che questa è una buona squadra che abbiamo fatto un ottavo posto che abbiamo lottato nella prima parte di stagione con le grandi sappiate che per migliorarla non ci vuole tantissimo comunque l'abbiamo rivisto il secondo gol per rispondere al telespettatore da casa non è fuori gioco Ania in parte sono d'accordo con te cioè per almeno la parte che abbiamo mandato in onda poi c'è stata una parte che non abbiamo mandato in onda che il saluto un po' a noi è rivolto a noi e a me gli è sembrato un po' come un saluto di commiato poi a mia domanda il tecnico ha detto di no perché comunque ci saranno due mesi in cui in ogni caso non ci si vedrà tra virgolette neanche tramite zoom però lì in quel caso un po' mi è sembrato un saluto di commiato per il resto per la conferenza in sé sì sono d'accordo con te mi è sembrato un po' un invito alla programmazione nel senso un invito palese alla programmazione perché se è vero che Pace ha già palesato queste volontà alla società pubblicamente quest'oggi ha detto per me per come la vedo io si può continuare a lavorare bene si può continuare a crescere con questa squadra ovviamente parlando di chi dobbiamo rinnovare di chi non dobbiamo rinnovare cercando anche di implementarla in determinati ruoli o far crescere ancora di più alcuni giovani quindi Pace immagino che abbia voluto dire questo è il mio pensiero per cercare di continuare a fare bene magari l'anno prossimo migliorare questi due ottavi posti che sono arrivati al termine della stagione regolare e poi anche l'uscita al primo turno playoff sia quest'anno che l'anno scorso il progetto tecnico tra l'altro è questo cioè portare avanti determinate idee determinati pensieri progettualità per un certo numero di anni perché poi implementando mano a mano la rosa possa effettivamente riuscire magari ad arrivare a grandi risultati cercare di investire subito e tanto magari per alcuni contratti anche male come è stato fatto due anni fa purtroppo non era la via migliore soprattutto in serie C perché i grandi investimenti non sono direttamente proporzionali ai grandi risultati soprattutto nell'immediato a meno che non ci fosse stata una stagione particolarmente baciata dalla fortuna di solito il lavoro e la programmazione portano sì a grandi risultati ma ci vuole tempo ci vogliono soprattutto gli uomini giusti che certi uomini vengano consigliati da uomini giusti gli errori ovviamente si fanno anno dopo anno ma si impara proprio dagli errori quindi il termo deve portare avanti un progetto quale tipo di progetto questo si capirà ovviamente nelle prossime nelle prossime settimane ripeto anche in relazione al campionato che che verrà disegnato l'anno prossimo perché se tra due anni nel 2022 e nel 2023 ci sarà effettivamente di nuovo una C1 una C2 immagino che l'anno prossimo non solo il Teramo ma anche le squadre che alla fine non retrocederanno e che quest'anno magari sono più in basso in classifica proveranno a entrare in quella C1 e quindi magari a fare più investimenti a creare una squadra più importante per cercare di accedere anche poi a questa categoria professionistica che insomma da quello che si dice poi avrà anche degli introiti differenti rispetto a quello che è attualmente la Lega Pro quindi servirà di conseguenza un Teramo in cui non basteranno i giovani ma in cui servirà a investire l'anno prossimo se sarà appunto un campionato propedeutico poi alla riforma quindi anche questo sarà da chiarire però ripeto in primis bisogna capire da chi vuole ripartire il Teramo se vuole ripartire da Santo Federico da Massimo Paci da certi giocatori e aggiungo con certi giocatori immagino che non si possa discutere il contratto sulle stesse cifre di due anni fa perché i momenti sono cambiati i tempi sono cambiati quindi bisognerà discutere anche proprio dal punto di vista economico se c'è una volontà di allungare la permanenza a Teramo quindi sono diversi gli incastri da trovare la sensazione almeno a sentire un po' quelle che sono state le parole di Paci oggi Andrea insomma è per una sostanziale conferma di larga parte del gruppo perché sa perfettamente che dovesse essere lui confermato si ritroverebbe altrimenti a dover ripartire da capo con un nuovo gruppo è come se avesse voluto lanciare un segnale non smantelliamo questa squadra magari correggiamola poi economicamente bisognerà come diceva giustamente Agna rivedere qualcosa perché è chiaro che i contratti dell'anno prossimo non potranno essere come quelli di due anni fa se non non fosse altro che per la pandemia è sconvolto il mondo però mi sembra un po' intanto Paci se dovesse ripartire facendo dei passi indietro nel senso che la squadra sarà cambiata di molto dovrà metterci qualcosa di suo anche più di quello che ha fatto lo scorso anno perché lo scorso anno aveva una squadra già abbastanza formata e se vanno via in tanti è chiaro che dovrà lavorare una chimica avendo che vengono dalla scorsa stagione quindi questo è un aspetto poi i discorsi sono e si fa sportivo ed economico dal punto di vista sportivo l'ideale sarebbe tenere questo gruppo migliorato in posizioni del campo facilmente individuabili e quindi poter fare un campion ancora più ambizioso ripartendo da questi due ottavi posti ma con una squadra migliorata puntare ancora più in alto poi c'è l'economico e qui la palla passa al presidente perché neanche eh purtroppo non ti sentiamo di nuovo più eh vabbè eh va bene facciamo così visto che stiamo censurando Andrea questa sera ti sentite? sì sì adesso sì no dico rapidamente neanche si può pretendere che il presidente eh tiri fuori più soldi di quello che può eh lui farà la sua strategia appronterà il suo budget e quindi poi se molti giocatori non dovessero restare magari sarà anche una scelta di natura economica e quindi si dovrà ripartire con un nuovo progetto che parte da presupposti economici inferiori rispetto al passato perché i tempi sono cambiati e quindi è giusto che l'imprenditore e presidente Franco Iachini faccia le sue eh valutazioni quindi insomma tante cose da mettere sul piatto e tante cose da vagliare e per il futuro allenatore se sarà ancora Paci o un altro e sul fronte del management sportivo resterà Federico che fine ha fatto Andrea Iaconi e poi sul fronte dei giocatori e molto passa anche dalle valutazioni economiche perfetto va bene va bene ragazzi allora Andrea resta con noi noi ci vediamo martedì invece perché sarà l'ultima puntata di Proteramo per questa stagione in cui faremo un po' un bilancio a grandi linee ovviamente di quella che è stata un'annata dai due volti all'inizio sembrava che il tema potesse competere con le prime poi abbiamo capito che forse era un po' troppo e oggi questa eliminazione ci vediamo martedì sera grazie buonasera da voi ciao Ania noi ci fermiamo per la pubblicità poi rientriamo e apriamo la parentesi la pagina ampia dedicata alla Serie D avremo anche il presidente della Vastese al telefono Franco Bolami seconda parte dell'abruzzo del pallone come detto scendiamo in Serie D vedendo i risultati e la classifica rapidissimamente con l'ausilio della grafica prima di andare a vedere le immagini di Vastese notalesco Atletico Porto Sant'Elpidio Castelfidardo 0-0 Cinzia Albalonga Fiuggi 2-2 Giuliano Montegiorgio 2-1 Pineto Agnonese 3-1 Re Canatese Campobasso 0-0 Tolentino Matese 2-2 Vastese Notalesco 2-0 Rinviate Rieti Aprilia Vasto Girardi Castelnuovo la classifica ovviamente sempre tendo conto dei recuperi che ci dovranno essere Campobasso 58 Notalesco 52 Cinzia Albalonga 45 Castelnuovo Matese 42 Pineto Ricanatese e Castelfidardo 39 36 per il Montegiorgio 35 per Vasto Girardi e Vastese 34 per l'Aprilia 33 per il Tolentino 31 per i Rieti 30 per il Fioggi 25 per il Giuliano 7 per l'Atletico Porto Sant'Elpidio e 5 punti per l'Olimpia Agnonese andiamo all'Aragona di Vasto adesso con Paolo Renzetti per vedere Vastese Notalesco 2-0 Brutta pagina di sport al 91esimo di Vastese Notalesco il derby del Girone F di Serie D con il tecnico ospite Massimo Epifani finito in ospedale dopo una gigantesca risa scatenatasi nei pressi degli spogliatoi uno brutto finale di derby di una giornata attesa sin dalle prime battute in campo vince la Vastese che supera con il più classico dei risultati la formazione rosso-blu che vede sempre più lontano il primo posto all'Aragona è stata sfida senza esclusione di colpi fra i locali decisi a blindare la salvezza e gli ospiti intenzionati a non perdere ulteriore terreno dalla capolista Campobasso alla fine l'ha spuntata la squadra di casa che vede la salvezza ora molto più vicina avvio equilibrato con una maggiore pressione ospite all'undicesimo Marchionni dai 20 metri mette a lato con Di Rienzo che era comunque sulla traiettoria la squadra di Epifani prova a fare la partita ma la Vastese chiude tutti gli spazi il match non regala grandi emozioni fino al 28esimo quando Marchionni prova il gol della domenica ma Di Rienzo si supera e salva gli ospiti premono con più decisione con la squadra di D'Adderio pronta a ripartire in contropiede come accade al 41esimo dopo una leggerezza di speranza con Martiniello che poi in area mira al primo palo trovando la risposta di Sciva si resta però sullo 0-0 con i locali ancora minacciosi al 45esimo con un diagonale di Martiniello che fa terminare la sfera di un soffio al lato nel secondo tempo ospiti in campo con Sorrini Buonavoglio e Palumbo al posto di Di Stefano Blando e Bana in campo però nella prima parte di ripresa accade davvero poco fino al nono quando Martiniello per la vastese in area di rigore gira a rete con la parata del portiere del notaresco la squadra ospite non ci sta e si butta in avanti al 14esimo punizione di Acquadro con la respinta difficoltosa di Di Rienzo e con la palla che termina Ulcese che trova ancora la risposta del portiere prima della conclusione di Palumbo passa un minuto e tocca a Marchionni provarci con un tiro cross che crea ancora apprezzione in area aragonese si dispera in panchina il tecnico Rossoblu Epifani con la sua squadra che alza il baricentro mentre al 17esimo ci sono però le proteste locali per una caduta in area notareschina di Mamona con Borriello di Arezzo che lascia proseguire gara che finalmente si ravviva con la vastese che però non sta a guardare al 19esimo ancora Mamona mira l'incrocio ma mette fuori mentre al 21esimo ci prova Di Prisco di testa con Schiba che respinge al 25esimo ancora una sostituzione nel notaresco con l'ingresso in campo di Dos Santos per Olcese al 27esimo però è ancora pericolosa la squadra di D'Aderio con Monza che in area scarica su Schiba che salva ancora fioccano ora le occasioni dall'una e dall'altra parte con il punteggio che resta sullo 0-0 fino al 36esimo quando spezzare l'equilibrio ci pensa Mamona che fa tutto da solo entrando in area dopo una sgroppata prepotente e mettendo di potenza il pallone alle spalle di Schiba e facendo esplodere la gioia dei suoi compagni Vastese in vantaggio e formazione ospite che non riesce a reagire e così al 42esimo di Prisco con la complicità di Schiba raddoppia regalando così alla Vastese il 2-0 ma soprattutto tre punti pesantissimi in chiave salvezza per il notaresco un brutto colpo che non sarà semplice da smaltire poi il brutto finale che nulla ha a che vedere con lo sport servizio confezionato in maniera impeccabile dal nostro Paolo Renzetti diamo la buonasera a Stefano Recanati ciao Stefano ciao a tutti buonasera da poco veniamo da te in collegamento il presidente della Vastese Franco Bolami buonasera presidente buonasera ciao Jacopo ben risentito grazie abbiamo letto il tuo messaggio tu come sai insomma io nella prima parte ho detto ovviamente che se la Vastese qualcuno della società aragonese avesse voluto chiarire l'accaduto qui è assolutamente a disposizione o è il tuo lavoro Jacopo è normale dici la versione della Vastese presidente la mia versione è normale quando si perde e la squadra è stata cioè parti 2 a 0 convini che noi vino qua a basso a vincere la partita e la perdi c'è un po' di nervosismo a fine gara e dopo che si aprono i cancelli c'è stato qualche spintone ma niente di che di calci cazzotti non esiste proprio una cosa del genere sono stati dei spintoni normali perché può capitare dopo una partita tesa un derby e loro volevano vincere noi altrettanto ma nulla toglie che c'è qualcosa di grave cioè dispiace per il mister ma sei anni di presidenza non è mai successo niente a basso perciò non vedo questa polveriera che si è acceso qui a basso anche se all'andata loro sono comportati molto male con tutto il sportivo e sarò assalito da alcuni tifosi in tribuna ma nulla toglie dal di fuori dal campo abbiamo vinto una partita meritata faccio i colleghi della squadra e non ho niente da replicare perché non ho visto situazioni vergognose da parte mia dopo se loro la pensano stessamente c'è l'abito ci sta un referso vediamo cosa dirà però per me io sono tranquillo perché non eccesso niente di di strano dei spintori normali è normale che uno perde un derby ma succede quattro ogni domenica tutto qua Jacopo Presidente dall'SMS che ci hai mandato prima e anche dalle tue parole traspare il fatto che comunque ci fosse il precedente dell'andata che poi ricordiamolo è un doppio precedente perché ci fu prima il rinvio causa infortunio dell'arbitro e poi il recupero dove ci fu l'episodio del rigore assegnato alla vastese che però era fuori area ecco mi pare di capire che non è guarda Jacopo si perde e si vince il pallone non è questo il risultato cioè però è una cosa che si trascinava dalla gara di andata no ma oltre di entrare al campo e fuori dal campo che loro sono comportati molto male ma non è cioè non è quello il problema che io mi ti pongo il problema è che oggi loro venivano pensare una squadra morta di fare la partita di vincere hanno incontrato una vastese forte forte molto determinata che purtroppo forse avranno perso il campionato perché sono a sette punti sono un po' nervosi però non è cioè ci sono le telecamere c'è tutto la rivedere perciò io sono tranquillo perché non mi preoccupo come hai detto giustamente te ci sarà il referto arbitrale che insomma derimerà la questione noi adesso ovviamente io devo dire la verità e passo la parola ad Andrea se hai una considerazione per il presidente Bolami in quel momento specifico io ero in conferenza stampa con Massimo Paci nel post gara di Palermo Teramo quindi devo dire la verità io ho saltato a pie pari proprio almeno una mezz'oretta che è quella che serve per la conferenza stampa per le domande e quant'altro Massimo Paci quindi Andrea non so se hai una considerazione una domanda per il presidente no io saluto il presidente tutto sta a capire cosa è successo io penso che quello che è accaduto nella gara d'andata oppure oggi il notalesco pensava di vincere lì sono tutte determinate cose io a un certo punto oggi ero in diretto mi sono ritrovato a un certo momento nelle immagini Massimo Epifani steso davanti agli spogliatoi non so o ha simulato oppure è successo qualcosa c'è un refletto dell'arbitro magari il presidente non era presente però le immagini che abbiamo visto non sono edificanti e quindi penso che insomma presidente qualcosa sia successo e non è stata una bella pagina quella che si è scritta questo pomeriggio poi Andrea sicuramente non è stata una bella pagina però c'è un referto dell'ospedale aspettiamo il referto però io vedo e ho visto che non è stato né calci né punti c'è stato i spintoni alla fine della partita perché ci può stare nervosismo apri cangelli ci può stare ma non è che il mister me lo auguro c'è 8 punti non c'è niente di che per me aspettiamo il referto però come ho detto e come ho visto non c'è stato niente di preoccupante lui stava disteso per terra forse ha accennato un po' la caduta ma dal referto vediamo che è successo però io lo dico che non ho visto azioni brutte altrimenti dopo 6 anni che faccio 6 anni non è successo niente non è successo niente e non succederà mai questa cosa del genere perché prima per me è l'educazione si vince e si perde l'educazione e ti faccio riferimento anche al loro giocatore al portiere cioè risposta al nostro giocatore facendo anche un brutto gesto cioè un giocatore il portiere scipa e io mi sono anche un po' alterato con lui perché tu fai il giocatore rispondi per un gioco è un gesto brutto e là mi hanno molto partito l'educazione per me è la prima cosa dopo l'altro le altre cose per me vanno a morire per me come passi le calci Presidente Presidente Andrea se hai qualche altra curiosità noi dobbiamo prendere atto di quello che dice il Presidente Lavastese che è la massima espressione della società poi io immagino che gli organi cioè gli investigatori faranno il loro lavoro ci sarà un referto dell'ospedale io non riesco in questo caso ad andare oltre perché bisognerebbe scendere in meandri e noi non abbiamo gli elementi per poter andare oltre prendiamo atto di quello che dice il Presidente della Lavastese e poi insomma vedremo se ci saranno se ci saranno eventuali pagine successive spingone io io do la mia del suono dopo non ho visto né sangue né cazzotti né niente di particolare perciò non è che siamo delinquenti è normale che dopo una partita in derby c'è la tensione ma qualche spingione è normale capita non ci nascondiamo però non è che ci saranno i cazzotti sangue punte dell'ospedale cioè queste cose non esiste però hanno perso una partita loro pensano di venire più abbastra a vincere facilmente hanno incontrato una partita cinica forte e l'abbiamo dimostrato tutto qua Presidente grazie dell'intervento che ci dà anche la parte biancorossa della questione poi ovviamente noi la prima cosa di cui ci volevamo accertare ovviamente erano le condizioni di Massimo Epifani e il direttore sportivo D'Ercole ci ha detto che in attesa dell'Attac però sta bene e questa era la prima cosa poi ovviamente come lo chiamo io personalmente anche domani lo chiamerò ma penso che non c'è sonia io domani lo chiamerò perché è un amico che è stato allenatore del Pinetto che è con Zosilco sono buoni rapporti ciò sono situazioni che non devono capitare però quando c'è un c'è un dopo partita con Zosilco queste situazioni e c'è è normale ma senza esagirare perché ripito né sangue né punti né ospedale cioè non è eccezionale di grado Presidente però Epifani è stato portato in ospedale vabbè portato in ospedale perché l'hanno portato l'ambulanza da là ma vediamo il refert che succede Andrè io ti portiamo il refert perché ripeto si è allungato per terra per me cioè se avesse avuto un contatto brutto io penso un cazzotto c'è un libido c'è una maccatura ci sono dei punti perciò aspettiamo io non voglio guardare prima di avanti tutto qua va bene Presidente grazie dell'intervento sono a disposizione qualsiasi cosa una buona serata grazie al Presidente della Mastice grazie a voi grazie buona serata Franco Bolami insomma noi come giustamente diceva Andrea noi non è io non ero lì Andrea non era lì e anche Paolo purtroppo perché poi nel post post gara ci sono state telefonate ma il problema è che siccome era appena finita la partita la truppa è ancora sugli spalti e quindi poi Stefano tu mi insegni che per raggiungere la sala stampa bisogna fare il giro e quindi è anche lontano quindi è una difficoltà si passava anche in mezzo al campo adesso bisogna fare bisogna di fatto passare sotto la Davalos e quindi è anche non si ha testimonianza diretta comunque staremo a vedere la nostra voleva essere completezza di informazione sentendo la parte notaresco soprattutto per le condizioni di Massimo e poi la parte aragonese per il resto Andrea ti chiedo poi ascolteremo D'Adderio che parla però ha voluto parlare solo della partita ti chiedo se tu hai detto che la Vastese stava facendo dei punti importanti in ottica salvezza questi sono pesantissimi adesso restringiamo il campo veramente ai 90 minuti sì sono direi fondamentali perché se guardiamo la classifica la Vastese fa un buon balzo in avanti e ha altre partite da recuperare ora lì mancano gli asterischi però la Vastese ha altre partite da recuperare c'è un più due sulla zona play out c'è anche da valutare il distacco ma soprattutto è quello che dirà poi da Derio noi lo abbiamo detto lo abbiamo evidenziato nelle scorse trasmissioni il covid effettivamente con questo secondo focolaio che si è diffuso nello spogliatoio della Vastese ha fermato la squadra che era in un discreto momento e quindi la Vastese che si era allontanata dalla zona pericolosa che era nella parte medio alta della classifica a forza di non giocare si è ritrovata in zona play out e come abbiamo detto più volte ripartire è dura un po' perché si è riduci dal covid e i giocatori non stanno al massimo un po' perché guardi la classifica e ti ritrovi a giocare un campionato nuovamente difficile un campionato in salita quindi aver pareggiato ad esempio a Campobasso aver vinto di misura ad Agnone aver compiuto oggi aver vinto la partita di oggi sicuramente sono dei segnali di diciamo così di riscossa della squadra che sta cercando di mettersi alle spalle un periodo duro anche perché quando Lavastese è tornato a giocare ha perso in casa col Matese e quindi quella sconfitta poteva aprire scenari peggiori invece poi la squadra ha saputo reagire ed ora la classifica non è tranquilla non è tranquillizzante ma è sicuramente molto migliore rispetto a un paio di settimane fa assolutamente sì ci ascoltiamo le parole di Fulvio D'Adderio al microfono di Paolo Lorenzetti poi rientriamo perché dobbiamo vedere le immagini della vittoria del Giuliano D'Adderio D'Adderio una bella vittoria della Vastese purtroppo rovinata da quello che è accaduto al novantunesimo il tecnico del notaresco in ospedale non possiamo non partire da quello che è successo dopo il triplice fischio finale dell'arbitro lei cosa ha visto? io ho visto che la partita è iniziata al primo minuto quindi non al novantacinquesimo quindi il mio commento sta dal primo minuto poi se vogliamo parlare del novantacinquesimo una cosa la partita dobbiamo esaminarla perché il compito mio è uno parlare della partita non di quello che è avvenuto dopo perché io stavo negli spogliatoi quindi ci hanno messo in difficoltà i primi venti minuti noi abbiamo preso le contromisure nella seconda parte del primo tempo e abbiamo avuto qualche occasione ma loro sono stati stati devastanti nei primi venticinque minuti dove noi abbiamo capito veramente poco quindi una squadra forte una squadra che non solo è ben organizzata ma ha valore nei singoli e nell'organizzazione dopo è venuta fuori anche la vastese che forse ha qualcosa in meno sotto il profilo dei singoli ma ha poi dimostrato di essere pari loro e noi dobbiamo commentare questa vittoria che per noi è importante in funzione e come obiettivo per la nostra salvezza perché il covid ci ha rovinati ci ha declassati e ci ha creato problemi non solo fisici ma anche psicologici c'è gente che ora sta giocando e sta a tre a tre pistoni ce ne ha quattro e lo aveva detto dopo il pareggio di Campobasso abbiamo ottenuto un punto importante con la capolista cercheremo di fare altrettanto bene con il notaresco e oggi alla fine ci siete riusciti no lì ci invitavano a fare bene col notaresco noi abbiamo fatto bene col Campobasso e non ci tiriamo indietro col notaresco rientra nell'etica sportiva di ognuno di noi ma soprattutto in funzione della classifica la nostra la nostra non è che vogliamo fare un piacere all'uno o all'altro noi vogliamo fare i punti per la nostra classifica queste le parole di Fulvio D'Adderio passiamo adesso a Giulianova bella vittoria importantissima più che bella è importante importantissima perché ha rischiato perché ha rischiato quindi importantissimo e allora sono curioso di andare a vedere il tuo servizio di Stefano Recanati Giulianova Montegiorgio 2-1 pur soffrendo nella ripresa il Giulianova batte il Montegiorgio ed approfittando di alcuni risultati a favore aggancia la zona play-out accade tutto nel primo tempo con le reti di Tedone e Barlafante per i padroni di casa e Domiccioli per i marchigiani il Giulianova perde per squalifica Ferrini mentre Danna non al meglio parte dalla panchina nel 3-5-2 schierato da Abitetto al centro della difesa rientra a caso a comporre il trio con Ancinelli e De Moleon a centrocampo Cipriani è l'uomo disegnato per impostare la manovra in avanti conferma per la coppia Paudice e Barlafante nel Montegiorgio assenti per squalifica Perini e Mantini per impiazzarli Mister Meng opta per Ficola al centro della difesa e Trillini come Mezzala in avanti Gioca Lupoli con Cucù che si accomoda inizialmente in panchina i giallorossi provano immediatamente ad indirizzare la gara sui binari giusti con un cost-to-cost per vie centrali di De Cerchio con Zizzania che si salva in due tempi buono l'impatto sull'incontro per gli uomini di Bitetto che protestano per un presunto falo da rigore ma per Bortolussi si può proseguire il Giulianova spinge e trova il vantaggio al decimo minuto fondamentale il movimento tra le linee ad aprire la difesa di De Cerchio il quale appoggia Paudice con la conclusione di quest'ultimo respinto sulla linea ma sui piedi della corrente Tedone che con il piatto mette in fondo al sacco la prestazione del Montegiorgio impalpabile di giallorossi potrebbero approfittarne prima della mezz'ora quando dopo una ripartenza ancora orquestata dal 2 Paudice De Cerchio la palla arriva a Tipaldi che incredibilmente da pochi metri tira addosso al portiere continua il buon momento dei padroni di casa che si portano sul 2-0 Tipaldi è capabile a continuare la sua corsa inducendo all'errore Zizzania con la sfera che giunge sui piedi di Barlafante per il numero 10 un gioco da ragazzi mettere in fondo al sacco il doppio vantaggio però dura solamente una manciata di minuti perché il Montegiorgio alla prima conclusione verso la porta abruzzese va in gol grazie ad una prodezza balistica da 20 metri di Capitano Miccioli ad approcciare meglio la ripresa il Montegiorgio bravo a palleggiare palla a terra cercando di approfittare di un Giuliano un po' rinunciatario come al quarto d'ora quando Pampano sfonda sulla destra e pesca al centro dell'aria Lupoli sfortunato a colpire il palo alla sinistra di Mora preme ancora la formazione marchigiana che continua a rendersi pericolosa dalle parti di Mora con il difensore Gnaldi ma anche lui da pochi passi mette incredibilmente fuori Bitetto prova a cambiare qualcosa ma a rendersi pericoloso è ancora il Monte Giorgio con Lupoli che a botta sicura dal centro dell'area di rigore mette sopra la trasversale per vedere la prima conclusione verso la porta di Zizzania in questa ripresa bisogna aspettare addirittura il 27esimo quando Paudice fa tutto bene liberandosi di un uomo in area di rigore poi però decide di calciare in porta quando in mezzo erano liberi alcuni compagni di squadra lo stesso Paudice un minuto più tardi dopo una lunga progressione libera ad Anna che si fa murare la conclusione dalla difesa nel concitato finale di gara vengono espulsi mister Bitetto e poi De Cerchio per doppia munizione per domenica prossima in dubbio la trasferta di Aprilia come si dice di solito l'importante era era portare i tre punti il primo tempo noi potevamo anche fare molto di più e non subire anche la rete perché è stata anche su punizione una punizione che sinceramente ho qualche dubbio sulla sua sul suo fallo sul fallo del nostro e poi nel secondo tempo siamo calati la differenza tra noi e loro oggi è in dubbio è l'aspetto anche fisico atletico noi sono tre settimane che non giocavamo oggi si è visto è chiaro che all'inizio sei pimpante sei veloce poi col tempo ovviamente cali tant'è vero che alla fine diversi dei nostri hanno avuto anche dei campi la vera differenza è soprattutto questa è un donore del vero il loro nel secondo tempo hanno avuto quelle due o tre occasionissime dove potevano anche pareggiare però se avessimo fatto qualche gol in più noi perché ne abbiamo avuto le occasioni sia nel primo ma anche nel secondo tempo in altre partenze sarebbe stata una partita diversa si potrebbe non giocare anche domenica ad aprilia ma detto questo punti importanti perché con i risultati degli altri campi che sono anche a favore di Giulianova quest'oggi il Giulianova reggancia la postazione nei play out che a questo punto si potrebbero giocare ci sono tante possibilità di salvezza sì ma noi noi l'ho sempre detto noi dobbiamo cercare di racimolare più punti possibili nella maniera più assoluta lo dobbiamo fare lo dobbiamo fare sia giocando bene come abbiamo fatto in altre in tante altre partite come anche nel primo tempo e anche soffrendo così come abbiamo fatto nel secondo tempo d'altro canto noi siamo terzo ultimi classifica voglio dire è chiaro che non siamo e non stiamo dimostrando assolutamente di valere questa posizione però a volte vincere anche soffrendo fa anche bene abbiamo sbagliato i primi 25 minuti è un peccato perché poi abbiamo preso gol su due situazioni sono anche facili di lettura peccato perché dopo il 2-1 penso non posso rimproverare niente tra i miei ragazzi perché hanno dato tutto hanno creato tantissimo era normale che che potevamo subire qualcosina in contropiere invece neanche abbiamo subito tanto peccato peccato perché ripeto abbiamo creato tantissimo se avremmo pareggiato avremmo rubato assolutamente niente però il risultato accettiamo il risultato cerchiamo le ferite perché secondo me non meritevamo questa scuola rientriamo c'è un piccolo problema sulle parole di Mengo però Stefano noi abbiamo visto il servizio della partita le parole di Leonardo Bitetto a rivedere il servizio diciamo che il Giuliano avrebbe potuto forse nel primo tempo come ha detto Bitetto forse segnare qualche gol in più e rendersi il secondo tempo di minore sofferenza forse il primo tempo anche giusto nel senso che il 2-0 sicuro il 2-1 un po' meno perché nel primo tempo il Montegiorgio veramente male e l'ha riconosciuto anche Mengo nella ripresa mentre il Montegiorgio ha attaccato bene in quelle due ripartenze con Paudice protagonista le azioni potevano essere sfruttate in maniera diversa c'erano due uomini in mezzo all'area di rigore dove Paudice poteva servirli facilmente per far gol poi lui ha voluto calciare invece quando lui poteva calciare ha passato il pallone erano quelle su quelle occasioni forse mister Bitetto recriminava un po' però ha detto la verità quando noi siamo terzultimi in classifica non si può aspettare che giochiamo un calcio da protagonisti a volte nelle partite sporche è anche bene vincerle certo assolutamente sì vittoria fondamentale e come sembra che uno si lode e si sbrodo però come aveva detto parecchie settimane fa Andrea Bitetto sembra aver trovato la chiave di volta di questa squadra sia nell'interpretazione sia nel sistema di gioco che nelle interpretazioni delle partite sei d'accordo? sì e anche sul lavoro mentale sui giocatori il Giulianova all'inizio stagione sembrava un Giulianova svuotato più che altro anche mentalmente che non riusciva a trovare nemmeno quella forza di scendere in campo di attaccare di rendersi pericolosi invece a volte sbaglia anche la formazione giallorossa però quantomeno è cattiva in mezzo al campo corre e si rende protagonista quando può Andrea altri punti molto pesanti a proposito il Giulianova sta facendo ormai da diverse giornate quando può scendere in campo perché poi è un campionato spezzatino in particolare per il Giulianova che ha due partite da recuperare oggi è trovato in campo senza fare recuperi quindi stando due settimane fermo e probabilmente domenica neanche giocherà perché ci sono casi covid in aprilia e siccome c'è aprilia Giulianova che è uno sconto diretto probabilmente insomma c'è questo rischio che non si giochi però è stabilmente al terzo ultimo posto e deve sempre guardarsi da questo distacco di otto punti che va marcato perché il primo obiettivo ora per il Giulianova non può che essere cercare di fare il play out quindi stare in quella forbice i due recuperi vanno fatti con Agnonese e Porto Sant'Elpiglio entrambi in casa se fossero sei punti sarebbe una gran cosa ma abbiamo visto oggi Porto Sant'Elpiglio dopo aver vinto la prima partita ha pareggiato con Castelfidardo l'Agnonese ha tolto due punti al Pineto nella gara recuperata tempo fa quindi sono gare che andranno giocate e vinte sul campo però ora Giulianova deve essere concentrato su questo tipo di obiettivo se poi le cose dovessero andare particolarmente bene però le partite cominciano a essere poche magari si potrebbe anche pensare una salvezza diretta ma è molto difficile diciamo che primo obiettivo fare il play out poi se si presenterà l'opportunità cercare di rimontare su Rieti e Fiuggi che sono lì davanti al Giulianova per prendere anche il fattore campo bisogna ragionare per gradi perché purtroppo la classifica continua a essere una classifica da terzo ultimo posto la vediamo la classifica con l'ausilio della grafica Stefano? sì ma bisogna attendere anche il comunicato della Lega per quanto riguarda le retrocessioni perché dei play out ancora sappiamo niente si parla di due o tre addirittura retrocessioni secondo me sembra una cosa assurda perché una squadra che ha 25 punti non può essere messa alla pari di una squadra che ha fatto 7-5 punti se le cose vanno decise adesso però è anche come dire non è bello che a questo punto della stagione non ci sia ancora chiarezza perché io anche sto vedendo leggendo rumors che mettono in discussione il sistema classico di definizione delle retrocessioni poi per carità se così dovesse essere ben venga per le abruzzesi che sono giù Bastese ma soprattutto Giulianova che ha una situazione più delicata però è anche corretto dire che a questo punto della stagione non è possibile che non ci sia chiarezza sul meccanismo delle retrocessioni bisogna dirlo quanto priva perché c'è un campionato che volge faticosamente ma volge al termine certo anche perché poi in realtà io posso provare ad immaginare che la costruzione delle regole per le retrocessioni sia un po' subiudice perché sono subiudice praticamente tutte le partite ogni settimana e lo capisco però è anche vero che nel corso degli anni c'è una tra virgolette giurisprudenza consolidata rispetto a meccanismo per cui si torna in eccellenza e non è che una squadra parte pensando che ci sia una regola poi a maggio gli dicono sai che c'è abbiamo siccome c'era il covid adesso rimescoliamo un po' tutto non sarebbe ma se si è fatto di tutto per far ripartire i campionati eccellenza in qualche modo le regole per la retrocessione della serie D bisogna essere a darle chiare e subito ci fai vedere l'episodio da Moviola Stefano? sì è un rigore richiesto dal Giulianova su un fallo su Barlafanta ecco che a velocità doppia ha superato un avversario secondo me c'è il tocco sul ginocchio e poi anche la tirata di maglia eccola qui secondo me è un rigore solare il direttore di gara oggi è un doppio fallo non a livello tennistico ma oggi ma oggi ha sbagliato di tutto quindi c'è un 4 e mezzo pur più intanto ci scrivono buonasera i play out non si faranno retrocederanno le ultime due direttamente vedremo vedremo comunque queste frasi devono essere seguite dall'ufficialità non possiamo stare appresso ai rumors stiamo parlando di questa eventualità c'è anche l'eventualità che tra le cose di cui si parla che la sest'ultima non si è interessata dal play out ma si guardi dalla quint'ultima in giù magari mandando giù soltanto l'ultima sono in ballo diverse ipotesi però la realtà è che al momento di ufficiale non c'è nulla al momento la cosa ufficiale è che le ultime due retrocedono e le altre quattro fanno il play out se ci sono i distacchi se invece questi distacchi non ci sono le squadre meglio classificate si salvano senza il play out e stiamo aspettando eventuali comunicazioni ufficiali in merito al momento sono rumors Andrea ci chiedevano quali recuperi io ti dico la verità mi trovo impreparato quali recuperi ci saranno mercoledì per le abruzzesi vastese Castelfidardo e notalesco Montegiorgio Pineto Castelnuovo lì Stefano magari ci può aggiornare ti posso aggiornare perché ho sentito oggi pomeriggio la società manca solo l'ufficialità che arriverà domani per il rinvio della gara e poi martedì giro di tamponi se tutto va bene poi rifaranno i tamponi venerdì se ulteriore nota positiva quindi le cose vanno bene si gioca contro la vastese domenica altrimenti slitta anche quella partita quindi certamente recupera la vastese recupera il notalesco non il Pineto Castelnuovo poi vado a memoria c'è anche Porto Sant'Erpiglio Rieti probabilmente c'è anche un'altra partita ma adesso mi sfugge assolutamente sì va bene va bene Stefano grazie spegniamo due parole positive per mister Pomante ha raddrizzato una stagione positiva con un grande lavoro Forza Pineto resta con noi perché adesso parliamo proprio del Pineto di Marco Pomante che ha vinto anche oggi con l'Olimpia Agnonese il servizio è di Roberta Di Sante che tra poco avremo in studio dopo appena dieci giorni dal recupero della gara di andata Pineto e Agnonese si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra in una gara che mette in palio punti importanti per entrambe uno squalificato per parte nelle due formazioni nell'Agnonese non c'è Caputo fermato per due giornate dal giudice sportivo al suo posto a difendere i palli della Porta Granata Carriero fermato Galeano nel Pineto sostituito a centrocampo da Baldinini assente anche l'infortunato esposito a dettare i tempi a centrocampo e Paoli con Milincler che agisce tra le linee i molissani ospiti partono subito forte e sfiorano il vantaggio dopo appena nove minuti dal fischio d'inizio di Liotta di Castellammare Pejic pesca Sapone in buona posizione la gancio e la girata del numero nove che fa tremare il palo brividi per i padroni di casa che rischiano anche al tredicesimo quando Sapone in versione assistman trova il filtrante per Amaia ma Mercorelli riesce in qualche modo a disinnescare la gara si sblocca al minuto 14 grazie al lampo di Minincleri che riceve da Romano e con una gran botta da limite batte Carriero per l'uno a zero Pinetese alla prima vera occasione per i biancazzurri passa solo un minuto e i locali sfiorano anche il raddoppio con Minnozzi che dalla distanza spedisce fuori di poco con la sfera che sorbola il sette il Pineto cresce e sembra poter controllare disinnescando le fonti di gioco molisane al trentatreesimo ancora Minnozzi questa volta su punizione sfiora il palo si va così al riposo sull'uno a zero ma in avvio di ripreta dopo neppure un giro di lancette l'agnonese riporta il risultato in parità sfruttando un disimpegno errato della difesa biancazzurra sul quale si avventa Amosù che di controbalzo supera Mercorelli e fa uno a uno prova a inserire forze fresche Povante al decimo e intracciarcelluti per Minnozzi ma è ancora Minincleri a dare in là l'azione del nuovo vantaggio Pinetese al diciottesimo servendo nell'area piccola Romano che nel mucchio trova il tapin vincente e riporta in vantaggio i suoi ma al ventunesimo l'autore di gol e assist è costretto a lasciare claudicante il terreno di gioco al suo posto entra Bugaro i locali gestiscono bene la contesa con l'agnonese che dopo la fase iniziale perde di intensità al trentaduesimo della quercia taglia tutto il campo con un traversone sul secondo palo per Mastrippolito che tutto solo spreca clamorosamente la rete del possibile 3 a 1 ma l'appuntamento col gol è solo rimandato di qualche minuto al quarantaduesimo infatti sugli sviluppi di un calcio piazzato Mesisca costringe Carriero al miracolo ma l'estremo Granata nulla può sul tocco sotto misura di Bertolo che fissa il risultato definitivo sul 3 a 1 al triplice fischio può partire la festa dei biancazzurri che dedicano la vittoria a Renato Brocco il presidente di tante battaglie scomparso proprio un anno fa Marco Pomante dopo l'1 a 1 dell'andata oggi una prestazione ottima da parte della squadra arriva questo 3 a 1 sei soddisfatto? Sì sono soddisfatto prima di rispondere alla tua domanda vorrei fare una dedica speciale alla vittoria di oggi al nostro ex presidente Renato Brocco che è venuto a mancare un anno fa io lo ricordo benissimo per me rimane era una grande persona era un grande tifoso del Pineto e anche giusto oggi dopo questa vittoria dedicare la vittoria a lui perché sicuramente dall'alto sarà molto felice per quanto riguarda la partita è stata una partita sofferta però giocata bene io sapevo il valore dell'Agnonese io la classifica non la guardo perché anche dieci giorni fa ci ha messo in difficoltà l'ha fatto anche oggi però oggi sinceramente siamo stati bravi a reagire dopo l'1-1 loro e siamo stati bravi poi a chiuderla soffrendo però l'abbiamo chiusa e l'unico rammarico è che forse potremmo essere un po' più luci in qualche ripartenza nel chiuderla prima ma è normale che un po' di riposta ci farà bene sicuramente ci farà bene perché non era facile giocare oggi poi giocare mercoledì però è normale che poi riparti domenica e ricontinui un'altra volta la stessa Tarantella però sappiamo che lo dico sempre sappiamo da due mesi il nostro futuro sappiamo quello che ci capita sappiamo che dobbiamo giocare tutte queste partite ravvicinate è normale non giocare mercoledì col Castelnuovo un po' ci fa riposare ci permette di lavorare una settimana normale quindi sono contento diciamo dai di far ripiatare i ragazzi ultima parte della Bruzzo del pallone ben ritrovata la nostra Roberta di Sante ciao Roberta ciao Jacopo buonasera a tutti prima della pubblicità abbiamo visto la vittoria 3-1 del Pineto contro l'Olimpia Gnonese intanto prima fatemi dare i qualificati e le squadre qualificate al secondo turno dei playoff di Serie C il Grosseto ha vinto all'Ecco 1-4 Palermo-Teramo lo sapete 2-0 si è qualificato l'Albinolef e battendo 1-0 il Ponte D'Era si è qualificato il Foggia vincendo 3-1 a Catania Juve Stabia Casertana 1-1 ma la Juve Stabia in virtù del miglior piazzamento va al prossimo turno ed elimina la Casertana successo 3-1 del Materica contro la San Mettese nello scontro tutto marchigiano e dunque complimenti ancora alla squadra di Gianluca Colavitto la Juventus Under-23 invece ha vinto in casa della Propatria Tristina Virtus Verona è stata rinviata per casi Covid nella formazione veronese prima della pubblicità Roberta ci dicevano fate i complimenti a Marco Vanni noi li rifacciamo volentieri un po' perché diciamo che questa squadra sembra aver cambiato marcia un po' perché al di là della vittoria di oggi che tutto sommato ci poteva anche stare perché l'Agnonese è in clamorosa difficoltà però possiamo io devo dire la verità io il Notaresco l'ho visto il Pineto l'ho visto mercoledì a Notaresco mi sembra una squadra estremamente organizzata ma a parte lui ha ereditato comunque una situazione non facile per un allenatore che comunque ricordiamo è un allenatore esordiente in Serie D anche se ha giocato tanti anni però insomma poi da passare da giocatore ad allenatore non è sempre facile e probabilmente non rende sempre allo stesso modo detto questo ha ereditato una situazione non facile è riuscito comunque a cambiare soprattutto dal punto di vista mentale perché lui ha preso questa squadra che comunque era totalmente scarica mentalmente soprattutto mentalmente perché comunque le qualità di alcuni giocatori c'erano probabilmente la sua bravura è stata quella di andare ad esaltare anche attraverso questo cambio di modulo che probabilmente è più congeniale per alcuni giocatori cambiando le posizioni in campo eccetera è stato bravo ad esaltare le caratteristiche di questi giocatori che erano comunque già in rosa e a dare quella mentalità a portare quella mentalità vincente che in quel momento sicuramente non c'era poi i risultati positivi hanno fatto il resto che partita è stata quella di oggi qui vediamo il pareggio di Amusu dell'Agnonese ma innanzitutto possiamo grandissimo gol di Minincleri il suo è Romano e Bertolo innanzitutto possiamo dire facendo una battuta che è stato sfatato il tabù agnonese finalmente per il finetto sì perché peraltro il finetto ce l'ha giocato veramente qualche giorno fa quasi sono accavallate gara di andata e gara di ritorno è vero a causa si è stato recuperato esattamente dieci giorni fa la gara di andata terminata 1-1 e quella di oggi anche insomma il finetto si è fatto trovare meglio pronto proprio in virtù di come era andata ad Agnone anche se ecco l'Agnonese in alcuni frangenti della partita soprattutto all'inizio dei due tempi ha messo un pochettino in difficoltà il finetto che però poi quando ha preso le misure è stato bravo a bloccare quelle che sono le fonti erano fonti di gioco dell'Agnonese e quindi i suoi giocatori di maggiore qualità poi è riuscito a controllare a controllare la partita alla lunga con l'Agnonese che poi è calata diciamo da un punto di vista anche fisico e lì anche la qualità della panchina del Pineto ha fatto la differenza e poi c'è stato il solito il solito Minincleri quando non c'è Minnozzi c'è Minincleri quando non c'è Minnozzi questi due giocatori stanno risultando assolutamente fondamentali nel corso di queste partite oggi un'altra grande prestazione di Simone Minincleri che ha fatto un gran gol e ha fatto anche l'assist del secondo purtroppo però poi è uscito è uscito anzitempo dal terreno di gioco Pomante ha parlato di crampi ma spero non ci sia qualcosina a livello muscolare perché insomma era uscito Claudicante dal terreno di gioco mi auguro nulla di particolarmente importante per lui assolutamente noi glielo auguriamo ci ascoltiamo le parole del presidente Brocco sì perché c'era anche questa dedica particolare sì c'era la dedica particolare a Renato Brocco che è l'ex presidente del del Pineto che proprio un anno fa veniva a mancare e quindi giustamente tutta la società ci teneva molto a dedicare questa vittoria a un un grande presidente che devo dire la verità ha dato ha dato tanto a Pineto e alla Pineto Calcio dedicando il suo tempo e il insomma tanti anni della sua vita una dedica sacrosanta ci ascoltiamo invece le parole dell'attuale presidente Silvio Brocco presidente Silvio Brocco possiamo dire finalmente sfatato il tabù agnonese avevi predicato concentrazione dopo l'una uno dell'andata è arrivata questa bella vittoria sei soddisfatto oggi della prestazione sì io sono molto soddisfatto al di là della vittoria comunque vedo ecco domenica in domenica oppure ogni partita che affrontiamo veramente una squadra determinata una squadra di valore c'è ramarico perché sicuramente insomma per tutte le situazioni negative che abbiamo che abbiamo subito potevamo sicuramente dire anche noi qualcosa di più ci credi ancora nei playoff beh se i playoff si dovessero fare perché no dobbiamo è un obiettivo che comunque è legittimo raggiungerlo poi vediamo vediamo sul campo la famiglia Pineto Calcio ci teneva particolarmente alla vittoria di oggi perché oggi il Pineto Calcio ricorda uno dei suoi grandi presidenti e la vittoria è sicuramente dedicata a lui oggi sicuramente è totalmente dedicata a Renato il nostro grande grande amico storico nonché appassionato appassionale del Pineto lo ricordiamo sempre con grande piacere e chiaramente quando vediamo le partite la domenica ci manca la sua figura la sua persona nonché la sua presidenza storica quindi noi più giovani come dirigenti abbiamo preso tanto da loro da Renato da Don Peppi da tutti quelli che sono stati veramente dei grandi del Pineto Calcio Andrea vengo da te in 20 secondi insomma il momento del Pineto molto positivo bisogna dire come ha detto Roberta che con questo schema i tre dietro poi i due esterni e poi si può giocare un po' modulo fantasia perché minnozzi minincleri davanti ai Romano puoi anche schierarti fargli fare lavoro sporco lavoro sugli esterni venire in mezzo al campo è una rosa come hai detto più volte molto ampia che però può anche interpretare sistemi di gioco in maniera differente sì però ha trovato questa strutturazione che ha dato grande equilibrio e grandi risposte sia in termini di solidità sia in termini di produttività offensiva ci sono dei giocatori poi che secondo me stanno davvero giocando a grandi livelli parlo di minnozzi parlo di della quercia minincleri pure fa intravedere la sua la sua classe a questi livelli poi lì dietro tra i vari Pepe Paoli Bertolo e Mesisca che è un under addirittura del 2003 stanno tutti quanti insomma fornendo delle prestazioni all'altezza della situazione è una squadra che ha trovato la sua dimensione noi avevamo espresso delle perplessità perché ripartire dopo il covid lo abbiamo detto più volte è molto difficile il Pineto però sta facendo punti sta macinando punti è stato difficile nelle prime partite dopo la ripartenza c'è stato quel mezzo passaggio a vuoto ad Agnone già a campo basso la squadra ha perso ma aveva giocato per 70 minuti una buonissima partita e ora con delle partite ancora da recuperare intravede la zona playoff che lì ha a tre punti e devo dire che se il Pineto continua così non sarà facile perché io penso che poi la fatica si farà sentire però se continua così i playoff li potrà fare e gestire la fatica è possibile grazie alle ottime rotazioni che sta facendo Marco Pomante che anche da questo punto di vista è stato molto bravo a imbroccare queste rotazioni che fanno sentire tutti sul pezzo tutti coinvolti non ci sono mugugni e poi quando si va in campo si fanno delle prestazioni importanti e questo è un aspetto probabilmente uno dei più determinanti della gestione di Pomante Buonasera ma il Pineto non era partito per vincere il campionato la squadra ce l'aveva vabbè poi sono successe tante cose all'inizio è andata male ci si è fermati per il covid ho anche detto prima i giocatori c'erano anche prima lo stavo dicendo proprio pochi istanti fa però magari ecco con questo nuovo modulo e con la nuova interpretazione probabilmente Pomante è riuscito a mettere maggiormente al risalto quelle che erano le caratteristiche dei giocatori che ovviamente c'erano poi alcuni sono arrivati dopo il Pineto agganciare i playoff in 10 secondi perché devo chiudere secondo me se continua così con le partite da recuperare tra l'altro manca Castelnuovo Vasto Girardi aspetta quante ne sono due o tre c'è una terza che adesso mi sfugge però secondo me assolutamente assolutamente sì il Pineto è a quota 39 a questo punto tra l'altro ha anche questo scontro con il Castelnuovo che non si manca l'ufficialità ma non si giocherà dico anche un'altra cosa il Pineto stava cercando di poter disputare un altro dei recuperi ma purtroppo è andata a finire non si giocherà perché le altre squadre con cui il Pineto deve recuperare sono anche esse impegnate a cominciare dalla vastese in altri recuperi in altri recuperi per una settimana però Pomante benedirà però Pomante era felice sì magari fa una settimana standard va bene sì fa una settimana di allenamento diciamo normale infatti era contento su questo in realtà il Pineto doveva fare fino al 19 maggio partite ogni tre giorni poi è saltato già un recupero e con l'Agnonese è giocato avendo una settimana piena e poi non è andata granché bene e ora salta anche questo recupero e quindi avrà nuovamente una settimana piena quindi due settimane piene in un momento in cui la squadra avrebbe dovuto giocare sempre una volta ogni tre giorni fino al 19 maggio ci chiedevano di Vasto Girardi Campobasso non si sa perché non è stato ancora calendarizzato quel recupero il Vasto Girardi avrà una partita da recuperare anche il 19 ma non sarà con il Campobasso grazie Andrea per essere stato con noi grazie Roberta ci vediamo prestissimo ciao a tutti grazie a Maurizio Daquin regia grazie a tutta la squadra di TV6 i tecnici giornalisti e quant'altri assolutamente siete fantastici noi ci fermiamo l'Abruzzo del pallone torna settimana prossima domenica 19 e 30 sul canale 14 nel digitale terrestre buona domenica ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.